Ringraziamo il pubblico, le tante persone che sono venute a vederci, tanti ragazzini e un grazie a questa squadra perché hanno fatto veramente un campionato meraviglioso, un playoff spettacoloso, quindi noi da parte nostra, noi come presidenza, noi come dirigenza dobbiamo solo dire grazie. C'è una grande soddisfazione, sono state due partite meravigliose, voglio fare i complimenti a Matelica perché sono veramente una grande squadra, un grande pubblico e adesso ci godiamo e ci giochiamo questa finale. La giochiamo con la massima tranquillità, consapevolezza, la nostra forza e la nostra concentrazione. Penso che il nostro allenatore, tutto il nostro staff dirigenziale sapranno inculcare ai nostri giocatori la mentalità giusta per giocare questa finale. Abbiamo stati sopra dall'inizio alla fine, probabilmente avremmo potuto anche dare un colpo di grazia maggiore, però accontentiamoci, è già importante aver raggiunto la finale, quello che volevamo dall'inizio del campionato, nonostante difficoltà adesso ci siamo, vogliamo continuare. Con lo spirito che ci crediamo, ci crediamo perché a parte che abbiamo già vinto là, ma quello non vuol dire niente, non siamo consapevoli che possiamo farcela e quindi vogliamo andare per tornare in grado. Credo che il lavoro che abbiamo fatto tutto questo mese ha dato frutti, credo che la squadra gioca bene, sono tutta una buona persona, un buon giocatore, credo che la gente buona le passa una cosa buona. Ringraziare a tutti per aver venito a guardare la partita, vi aspettiamo alla finale, ci sogniamo a tutti per questo, questo non è solo nostro, è della città, è da Pessaro.